Dal barbiere Ho incontrato un uomo. Ero dal barbiere. Diceva che era un bancario. Sì, un bancario, in pensione. Non era lo sportello e si occupava di borsa. Non aveva fatto amici. Neanche con la moglie. Una vita da solo, in mezzo a persone sole. Una vita fatta da episodi senza continuità. Quella la sua vita. Nessuna novità. In attesa che qualcuno prendesse per lui l'iniziativa. Perché quella natura morta non restasse sempre sulla porta. Senza stagioni e senza fiorire mai.